Un nuovo appuntamento qui a Palazzo delle Aquile dove ascoltiamo le voci di chi sta seduto a Sala delle Lapidi. Oggi incontriamo il capogruppo dell'Udc Sabrina Figuccia a cui innanzitutto vorremmo rivolgere una domanda relativamente al problema povertà in città. Una situazione che porta purtroppo a un livello di sofferenza che comporta dei gesti deprecabili come quello del caso del povero Closhard. Una situazione particolare, difficile che ogni anno si ripropone in forme diverse. Lei più volte ha seguito queste situazioni da vicino. Un commento a riguardo? Devo dire che purtroppo il fenomeno della povertà nella nostra città è aumentato sempre di più in questi anni. L'episodio a cui lei fa riferimento testimonia davvero la grande esasperazione e anche la perdita dei valori essenziali che poi portano un ragazzino rom di appena 16 anni in compagnia di un bambino perché pare che l'altro ragazzino avesse solo 12 anni, poco più quindi che un bambino a pestare a sangue fino ad uccidere un uomo aldo che purtroppo appunto ha perso la vita durante questo pestaggio semplicemente per recuperare 20 euro. Assolutamente una cifra irrisoria che dà il senso di come purtroppo l'inciviltà, la delinquenza, la criminalità a Palermo oggi siano davvero estremamente diffusi. Così come la povertà che purtroppo colpisce tantissime famiglie nella nostra città e per cui comunque purtroppo questa amministrazione credo che ancora oggi sia capace di fare troppo poco. L'amministrazione sembra avere una maggioranza instabile. Più volte è accaduto che durante l'approvazione di atti importanti sia stata l'opposizione a garantire che potesse andare avanti la macchina comunale. Devo dire è un fenomeno che si è verificato tante volte. In aula la maggioranza ha moltissime difficoltà e credo che questo venga dal fatto che molti consiglieri della maggioranza non hanno, per usare un termine molto caro ad Orlando probabilmente la stessa visione del sindaco stesso perché in realtà forse hanno gli occhi. Vivono nella nostra città si interfacciano con i cittadini che ogni giorno gridano i tantissimi disagi, la mancanza di servizi reali a fronte però di un esborso di tasse davvero estremamente oneroso. È stata proprio in questi giorni la sollevata la problematica della RAP che sembrava essere a rischio per quanto riguarda i pagamenti delle tredicesime e degli stipendi dei dipendenti. Il rischio è stato superato con un colpo di mano del nostro sindaco ma in realtà è un rischio costante ed è lo stesso rischio costante quello che ogni giorno i cittadini vivono in questa città. Tra le moltissime contraddizioni di questa amministrazione che non è in grado neanche come dicevamo di sostenere la propria maggioranza e i propri atti sicuramente vi è anche una giunta che se da un lato per esempio come è avvenuto nel caso del piano di miglioramento dei servizi relativo alla polizia municipale ha approvato in giunta un documento con tanto di delibera con il quale prevedeva l'inserimento appunto di questo piano di miglioramento dei servizi dall'altro con il PEG che è l'atto con cui sostanzialmente vengono messe le somme ha dimenticato probabilmente di inserire le stesse somme che sono funzionali affinché queste risorse umane percepiscano questa indennità e che riescano poi a svolgere i servizi per l'intera collettività. A breve approverete il bilancio consolidato. Cosa prevede questo bilancio ma soprattutto si supereranno le emergenze, le difficoltà anche grazie a questo strumento? La Commissione ha esitato il parere di pertinenza appunto della settima Commissione di cui io faccio parte con un voto negativo, con un voto negativo perché malgrado il Presidente del Collegio dei Revisori che abbiamo audito appunto in Commissione ha insieme all'intero organo dato un parere positivo devo dire che questo non ci ha convinto, non ci ha convinto per tutta una serie di ragioni per i disillineamenti che ancora sussistono per quanto riguarda proprio le partecipate di cui parlavamo poc'anzi AMAT e RAP in primis ma anche tutte le partecipate in generale non vivono una condizione positiva per usare un eufemismo ma in generale il fondo dei rischi per i contenziosi per esempio è secondo anche pareri tecnici poco proporzionato rispetto a quelle che sono i reali contenziosi motivo per cui andiamo poi a votare spesso ma non volentieri almeno nel mio caso i debiti fuori bilancio così come pure il valore dato al patrimonio immobiliare del Comune pensate che se da una parte i costi relativi al patrimonio immobiliare del Comune ammontano a più di 2 milioni di euro dall'altra i ricavi ammontano a circa 1 milione e 2 questo significa che c'è un totale scollamento tra ciò che dovrebbe produrre perché il patrimonio immobiliare del Comune ricordiamolo dovrebbe produrre cassa e non al contrario creare indebitamento quindi è chiaro ed evidente come questo bilancio consolidato non può essere votato perché almeno da parte mia sicuramente che esprimerò un voto contrario nel momento in cui sarò chiamato sarò chiamato a farlo in consiglio comunale perché credo che tutti questi costi non possano poi essere invece ribaltati sui cittadini Grazie a tutti